Vizitanebbe Lider Nacional Kairala Sanana Guzmangalo ne ho iniziativa attuare besi Comunidade nebe durante ne infrenta meius a ihan liliu bamalok bit like sira Relaciona ho surto Covid-19 nebe mundo infrenta Ia visitane comidade entusiasmo tebes simu Lider Karismatico ne Hodahorno Lia Dadolin accompagna Liderne ia visitane Ia sukuatara posto administrativo Atsabe, Munisipo Hermera, comandade riungresing maximo Lider Karismatico ne No ia fatignes sanana husu na fatin, bafoin saesira tenki hakmatek no kriana fatin pas També janeu hallo apelo botina per nova geração e sukuatara o Atsabe Tomai Comporta Didiak Kiminhyang Sae disciplina Didiak Bacarik istuda bucamatenek Aguara ne Facebook, 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 Facebook ala deik Tamba Bacarik istuda bucamatta la disciplina e mi sa ma è la tapui è la perché tu asferi che si non è ne consapevole e mi sa ma è la ruina orana vettacvacat odita è tango cong'an ne doni tempo l'oscanza fa per l'obattina ma i misoi vicina come porta di Dio sai cittadà di Dio antes di sai cittadà di Dio sai cittadà di Dio l'oglio è da Rania e che si mai è la mia Rania poi in Hanoicata e di Tòria município e che si fa esempio ma município si lo cantai jove si era attiene si era la responsabilità l'oscanza 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 di Sazeng bafuin sayesira atau hakmatic Nukriya nafatin pas Jimmy Fernandez Batli Sermintu GMN